Buongiorno, meno due giorni alla partenza per le Maldive. Fra poco più di 48 ore, anzi poco meno di 48 ore, saremo in volo verso le Maldive a Tollo di Vavu ad Alimata, un'isoletta. Meno di 24 ore, alla partenza siamo venuti qua a fare il saluto al Porto e al mare Sardo e niente, domani ci marchiamo per questo volo verso Malè, faremo prima a Milano, a Cagliari Malpensa e poi Malpensa Malè e poi da Malè prenderemo un idrovolante che ci porterà sull'isola Alimata. Ci siamo, siamo pronti per la partenza, i bagagli sono pronti, eccoli qua. Pronti, direzione aeroporto. Eccoci all'aeroporto di Cagliari, eccoci in aeroporto. Sei pronto? ora siamo all'aeroporto di Milano Malpensa e stiamo mangiando qualcosa in attesa di andare al check in del nostro prossimo volo. Eccoci pronti, siamo in fila per imbarcarci nel charter perché ci porterà a Malè, la fila, c'è un po' di fila, questo è il volo, Malè. Niente, tra poco ci imbarchiamo e partiamo. Saluta. Ciao. Eccoci in aereo. Questo è il vostro aereo. Molti sembrano molto comodi, confortevoli. L'intrattinamento musicale, un tavolino, lo spazio non è male. E noi siamo qua. Siamo pronti? È arrivata la cena. Ecco qua. A breve chiediamo anche un bel bicchiere. Quel piatto di ravioli, un po' di tonno con verdure e anche il biscottino. Palino e grana padano. E non poteva mancare il bicchiere di vino. Una buona cena d'acqua. Ormai siamo addirittura dal remo. Si vede già il mare, il cielo indiano. Eh sì, qua c'è già luce perché si sono alle 3 del mattino. Ci siamo quasi. Siamo addirittura di arrivo. Da qua si iniziano a vedere gli atolli. E questa è la colazione. Ed ecco l'atterraggio a Malè. Siamo alle Maldive, ufficialmente. una bella sensazione calda, vero? Siamo arrivati, siamo nel Pullman che ci sta portando all'aeroporto. Dopo adesso capiremo come prendere l'idrovolante che ci porterà a Limata. Ecco qua, si fa il check in per l'idrovolante. Ecco il pulmino che ci sta portando a prendere l'idrovolante. Questo è l'aeroporto dell'idroscalo. Da qua prenderemo il volo che ci porterà ad Alimata. Bello, molto elegante. Siamo all'idroscalo. Qua dietro di me ci sono gli idrovolanti. E partono uno dopo l'altro. Gente che va, gente che viene. Noi abbiamo fatto il check in e stiamo aspettando il nostro. Purtroppo due ore di attesa. Però vabbè. c'è un bel caldo. La sensazione del caldo appena arrivi è pazzesca. Andiamo da vicino questo idrovolante. Si sale sull'idrovolante. Eccoli. Adesso vediamo se il primo è il secondo. Uno dei due è il nostro. Probabilmente il primo. Gabriele girati, guarda. Ok. Eccoci pronti. Salutate. Ciao. Ci abbiamo dei tappi delle orecchie se li volete mettere. Siamo pronti. Questa è la cabina di pilota dei nostri piloti. Le ciabattine. Eccoci qua. Stiamo andando al punto di partenza. E poi appena si levano il via, partiremo. Ciao. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bellissimo. E questa è la nostra isoletta che ci aspetta. Ecco la barchetta che ci sta portando al nostro villaggio. I nostri assistenti del villaggio. Il paesaggio è clamoroso. Siamo contenti? Eccoci. Il nostro villaggetto. La qua è bellissima.